Musica Le 7 punto, buongiorno e benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa di Omnibus. Sono diversi gli argomenti in primo piano sui giornali di oggi, tra i quali non c'è perché sono arrivate appunto in queste ultime ore e non ci sono i risultati delle elezioni in Brasile. In sostanza si andrà al ballottaggio tra Lula e Bolsonaro, lui ha avuto più o meno il 48,4%, Bolsonaro circa il 43,2%. Dunque ancora un mese di campagna elettorale perché si tornerà alle urne il 30 di ottobre. Si parla invece ampiamente dell'avvertimento da parte della Nato a Mosca per quanto riguarda la minaccia nucleare che arriva da più parti e continua ad arrivare da diverse voci dalla Russia. Ci saranno conseguenze serie, dice la Nato, se verrà impiegata l'arma atomica. Ieri anche Papa Francesco ha lanciato un appello per fermare la guerra sia a Putin che a Zelensky. A Putin ha chiesto di fermare le violenze, a Zelensky di dialogare per la pace. In primo piano sui giornali di oggi naturalmente la questione che riguarda il gas si cerca una soluzione. Il ministro Cingolani ha detto che in realtà per l'Italia non c'è un problema di approvvigionamento. Le scorte ci sono, il problema adesso principale è quello del prezzo. Per questo c'è l'ipotesi di sganciare appunto il prezzo da quelle quotazioni di Amsterdam che ormai sono totalmente lontane da quella domanda e offerta legata appunto alla realtà. Per la cronaca la storia di quella bimba di otto mesi ricoverata in gravissime condizioni in coma farmacologico perché è stata appunto picchiata dal compagno della mamma. Allora partiamo dal Corriere della Sera. Il titolo principale è la Nato avvisa Mosca, eccolo qui l'appello del Papa. Putin fermati e invita Zelensky a negoziare per la pace. Stoltenberg, conseguenze seri si userà il nucleare e Di Maio convoca l'ambasciatore Razov, l'ambasciatore russo a Roma. Per la verità sono stati convocati dai 27 paesi dell'Unione Europea a tutti gli ambasciatori appunto di Mosca. Reportage dal Donbass oggi sul Corriere della Sera. Così i russi fanno fucilare i soldati in fuga dal fronte. Poi lo ZAR e il peso crescente dei teorici ultranazionalisti. Quindi ancora le questioni che riguardano il gas in piazza per il gas. Meloni Cingolani, piano antirincari e oggi ci saranno proteste in molte città perché c'è questo naturalmente movimento che sta portando avanti le difficoltà delle famiglie e delle imprese. A centropagina questa fotografia ci racconta quello che è successo ieri in uno stadio dell'Indonesia. Da scontri e panico la polizia spara i lacrimogeni nella calca ci sono state oltre 120 vittime. L'apertura della Repubblica dedicata all'appello del Papa. Putin, fermati. Supplica di Bergoglio al leader del Cremilino. Assurda la minaccia atomica. Stop alla spirale di morte. E a Zelensky trattate. Dopo la caduta di Limana, Mosca e Falchi spingono per l'uso del nucleare. La nato non fatelo, ci sarebbero risposte serie. La controffensiva di Kiev nel Donbass. L'obiettivo è Lugansk. La politica, il piano Meloni per le bollette stop morosità. E poi mappe la Lega ha smarrito il territorio. Vediamo anche l'apertura della stampa. Ecco la quinta. Aglio alto. Meloni vuole rifare un governo Draghi. L'accusa di Lega e Forza Italia. Le nostre proposte di ministri tutte respinte. Punta ad avere otto tecnici. Adesso appunto la questione del centrodestra è proprio questa. Perché Forza Italia e Lega sostengono che i tecnici devono essere un'eccezione nel governo che deve essere prettamente politico. A centropagina l'Unione Europea chiama a rapporto Putin. I 27 stati europei convocano gli ambasciatori russi. Non riconosciamo l'annessione delle regioni ucraine. Duro richiamo del Papa all'Angelo. Se il Cremlino fermate le armi a Zelensky apre un serio negoziato per la pace. L'apertura del messaggero è dedicata alla questione delle bollette. E ad un aspetto sicuramente in primo piano fuga dal lavoro a casa. Il rincaro delle utenze domestiche spinge l'80% dei dipendenti a rinunciare allo smart working. Eppure l'Italia gas in eccesso e lo esporta. L'ho detto appunto ieri il ministro Cingolani. Meloni basta speculare sulla pelle dei cittadini. La resa dei conti dentro Lega e PD con Giorgia che accelera sulla lista dei ministri per il Viminale è in corsa anche Tajani. E ancora a centropagina la notizia di questa ragazza romana Alessia Piperno. Aiutatemi romana arrestata in Iran. Festeggiava il compleanno l'appello del padre. Ieri è riuscita a chiamare la famiglia che ha subito mobilitato la farnesina. Ancora sul messaggero chiedi scusa o sparo l'inchiesta su Ruberti verso l'archiviazione. Il PM di Frosinone pronto a chiedere a chiudere scusate le indagini sui traffici ipotizzati durante la lite ripresa in video dell'ex capo di gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. E vi dicevo appunto la questione di questa bambina di otto mesi massacra la figlia della compagna. Ora è gravissima. Ha fermato a Pavia quest'uomo che ha comunque ammesso le sue responsabilità. In taglio basso sul messaggero la vittima dell'argentario. Quella donna che è scomparsa in quell'incidente dove si sono scontrate due barche a vela. Festa a Cisterna per i 18 anni di Rene ricordando la mamma. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e riprendiamo subito dopo con la lettura dei giornali. Bentornati in studio. Proseguiamo con la rassegna stampa di Omnibus. Siamo all'apertura del sole 24 ore in versione di approfondimento nel lunedì. Criminalità 2022, reati in discesa ma non sul web. Alert, scippi e rapine. E poi l'energia allo sconto non salva dai rincari. L'apertura del fatto quotidiano è dedicata ad una vicenda che riguarda una catena di hotel nel Salento. Chiudo 5 hotel, una bolletta sola brucia 56 anni di lavoro. Attilio Caputo racconta l'ammazzata bimestrale da 500.000 euro più 500%. Pensate come rincaro. Il foglio, eccolo qui. La paura fa meloni. Preoccupati o no del prossimo governo a guida fratelli d'Italia. C'è chi teme l'imperizia e un isolamento dall'Europa. E chi paventa una politica economica neocorporativa e statalista. E c'è invece chi è ottimista, svolta salutare. Non c'è alcuna emergenza democratica. Si parla anche del Partito Democratico sul foglio. Il vero dramma del PD. Il carisma incompatibile con la guida del partito. Apertura del domani. Anche qui si parla di PD. L'autunno democratico. Nascita e morte del PD. Sciogliersi o resistere ancora. Prima ha perso il popolo delle primarie. Poi anche gli elettori. Sono rimaste solo le fazioni che dominano dall'inizio questo eterno partito ipotetico. Il giornale contro il caro bollette via il reddito ai furbetti. Modifiche al sussidio. Stop alle truffe. Vale 4-5 miliardi. Paradosso gas. Lo esportiamo ma i prezzi restano alle stelle. Energia fuori controllo. Chiude una catena di alberghi. Apertura di Libero. L'evoluzione in Europa. Draghi sponsor di Georgia. Super Mario telefona ai colleghi premier europei. Per garantire che lavoreranno bene anche con il suo successore. Lei punta a mettere la sinistra in minoranza pure a Bruxelles. Apertura della verità. Eccola qui. Lo Stato imprenditore non paga le bollette e nemmeno i fornitori. Ex Silva partecipata pubblica a 100 milioni di debiti con l'indotto. Un insoluto di 375 mila euro per l'acqua ed enormi pendenze per il gas. Attende un miliardo extra dall'esecutivo ma già pensa di dilazionare i saldi. E' apertura del tempo. Eccolo qui. Fate presto. Caro Energia. Nelle aziende via chiusure, licenziamenti e scioperi. Impossibile pagare le bollette. Cingolani ammette il flop. Tetto al gas. Ci vuole tempo. Meloni. Non regale a chi specula. E poi pane e pasta alle stelle. Per fronteggiare l'emergenza. In cucina si torna al fai da te. Allora andiamo a vedere le pagine interne dei quotidiani. Partiamo dalle questioni che riguardano l'Ucraina. Dove intanto va avanti l'avanzata di Kiev. Che appunto come ci racconta il Corriere. Va oltre Liman. I ceceni fucilano. Chi fugge. L'armata del Cremlino si ritira lasciando dietro sé armi, mezze e distruzione. Gli ucraini liberi. Due insediamenti a Kherson. E sempre dal Corriere della Sera. Gli avvertimenti della Nato. Se usa l'atomica Mosca pagherà. E Francesco Putin si fermi. L'appello del Papa. Pace subito. Stoltenberg sull'adesione dell'Ucraina. Serve l'unanimità dei 30 membri. Bergoglio si è rivolto anche a Zelensky. Apra a negoziati seri. Si muove anche la Farnesina dopo le annessioni. L'ambasciatore russo in Italia Razov è convocato alla Farnesina. E per la verità sono stati convocati tutti gli ambasciatori russi dai 27 paesi. Ce lo racconta la stampa. La Russia ha il rapporto. 27 ambasciatori convocati da altrettanti paesi europei. Razov appunto alla Farnesina. Il messaggio a Putin. Non riconosceremo mai le annessioni illegali delle regioni ucraine. L'unione si muove compatta. In arrivo un ottavo pacchetto di sanzioni. E sulla stampa oggi c'è un'intervista a Stefano Pontecorvo. L'ambasciatore consigliere di Meloni. La posizione dell'Italia non cambia. Continueremo ad inviare armi a Kiev. Il nostro contributo, dice in questa intervista, la difesa ucraina è sempre stato importante e non cambierà. Al momento non vedo spiragli per la diplomazia. Ma non rischiamo l'escalation nucleare. Questo naturalmente è quello che si augurano un po' tutti. Mosca intanto alza la posta di fronte alle sconfitte. Ma è sempre più sola. La piccola operazione speciale è diventata una guerra all'Occidente. L'escalation in corso però allontana dal Cremlino anche la Cina e l'India. E torniamo un attimo sulla Repubblica. Ceceni e Wagner, i signori delle milizie tentati dal golpe per deporre lo Zara dopo aver suggerito l'uso delle testate nucleari tattiche. Falchi di Mosca invocano la testa dei generali e tramano contro il Cremlino. E poi ancora il reportage che troviamo sulla Repubblica. Ad est i russi sono in fuga. Ci riprendiamo. Le città non reggono all'inverno. In 48 ore i raid ucraini hanno già corretto i confini dell'annessione fissati dal Cremlino. Ci sono poi le questioni che riguardano il gas. Andiamo sul Corriere della Sera. Il dialogo governo Meloni-Cingolani-Unpiano in 48 ore. Interlocuzione molto collaborativa. Per il prezzo serve un nuovo indice europeo. La leader di Fratelli d'Italia insiste. La priorità è fermare la speculazione. Il ministro. Direzione tecnicamente obbligata. Non c'è ideologia. Le parole di Giorgia Meloni. Continuare all'infinito a compensare il costo delle bollette regalando soldi a chi si sta arrecchendo sulle spalle di cittadini e imprese sarebbe un errore. Le parole di Cingolani. Bisogna identificare un nuovo sistema che stabilisca un range di variazione. Per il TTF potrebbe essere una media degli indici importanti del mondo. Dunque si sta studiando appunto una soluzione per contenere il prezzo del gas. Bollette. Il piano Meloni. Siamo sulla Repubblica. Da 25 miliardi uno scudo per chi non può pagare. Il nuovo governo proseguirà sulla strada di interventi per famiglie e imprese dell'esecutivo Draghi ma aumenteranno gli stanziamenti. E si pensa infatti ad un'ipotesi moratoria in caso di insolvente e si studia un nuovo bonus da 150 euro. Dunque questo è uno dei dossier in primo piano per quanto riguarda il lavoro che sta facendo la Meloni in vista dell'organizzazione del nuovo governo. E poi ci sono gli aspetti che riguardano direttamente i consumatori. Neanche la stufa ci scalderà l'Italia senza legna e pellet. I combustibili di origine vegetale sono diventati quasi introvabili mentre i prezzi sono raddoppiati. Pesa il blocco dell'export è deciso dai palesi dell'est e gli imprenditori più produzione nazionale. E ci sono le proteste naturalmente che iniziano a crescere. Andiamo sul Corriere della Sera. Noi in ginocchio dai cortei. Falò dilaga la protesta per le maxibollette. Oggi in 14 città la rete di non paghiamo e si muove anche l'USB. Fattura da 500 mila euro in più. Abbiamo visto già sulle prime pagine chiude una catena di hotel nel Salerno. C'è un'intervista a sbarra il segretario della CIS sul Corriere della Sera. Oggi è positivo rivalutare i corpi intermedi dal carovita a un incendio che va spento. Coesione sociale è cruciale. Le nostre proposte in 12 punti. E dice in questa intervista serve un rilancio sul lavoro e investimenti. Una nuova cassa per chi non licenzia. La legge Fornero dice va cambiata. Sindacati appunto in primo piano su questa questione che riguarda il caro Bollette. Landini apre a Meloni. Siamo pronti al dialogo. Lotto in piazza per il lavoro. Dopo la disponibilità della leader di Fratelli d'Italia, la CGL, rassicura. Niente barricate. Ma il primo passo spetta l'esecutivo. Vedremo se deciderà di confrontarci. E ancora, il ritorno in campo delle parti sociali, il canto della sirena sulle pensioni. La destra punta sulla Previdenza per trovare un primo accordo con i sindacati. Meloni e la Coldiretti hanno fatto il controcanto del renzismo alla disintermediazione. Per quanto riguarda sempre le questioni legate al caro Bollette, il messaggero ci sottolinea che il lavoro a casa costa caro e c'è la fuga dallo smart working. Per l'80% dei dipendenti non è più conveniente. A causa del caro Bollette, nel pubblico e nel privato, gli impiegati chiedono bonus per poter compensare i ricavi. Nella pubblica amministrazione sono 700 mila coloro che possono operare da remoto. Ma ora 4 su 5 sono indecisi proprio per questa questione. Poi c'è l'effetto inflazione sui salari, giù il potere d'acquisto. Fino al 2024, taglio dell'8%. Queste appunto sono le questioni che riguardano in particolare il caro Energia. Poi ci sono le questioni che riguardano la politica con la trattativa per quanto riguarda il governo. Una dozzina di tecnici al governo, Lega e Forza Italia in rivolta. Così non ci stiamo. Meloni vuole che metà dell'esecutivo sia composto da esperti di aree. Per Salvini e Berlusconi resterebbero solo tre di Casteri. I politici a testa. Ronzulli è un caso. Il leader del Carroccio convoca il Consiglio federale. Forniremo i nomi più adatti. Ed è tutto per la rassegna stampa di questa mattina. Adesso diamo spazio a Paolo Sottocorona per il meteo. Buongiorno Paolo. Grazie Emanuela, buongiorno. Ci sono queste nuvole, solo queste nuvole che attraversano il Tirreno, vedete dalla Sardegna alle regioni centrali, non sono associate al momento a pioggia. E sostanzialmente non lo saranno neanche nella giornata di oggi. Perché se andiamo a vedere la carta della previsione, c'è questa zona sul medio adriatico e poi tracce, ma proprio minimi al nord e al sud, di deboli precipitazioni. Questo colore, capisco che è difficile riuscire a coglierlo, ma in quella scala cromatica che vedete a sinistra, con questo colore, sono previste quantità cumulate nelle 24 ore di uno o due millimetri. Quindi sono veramente molto poco. Situazione che nel complesso si mantiene anche nei prossimi giorni, perché se andiamo a vedere la giornata di domani, le deboli piogge sono al nord e forse in Sicilia, qualcosa proprio ancora più debole in Sardegna, se no prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, mercoledì non cambia molto, perché troviamo solo possibili debolissime piogge, quindi siamo in una situazione di tempo stabile con queste piccolissime incertezze. Le minime di questa mattina, sempre su valori relativamente elevati, anche se su qualche zona di montagna, insomma è abbastanza normale, si cominciano a comparire il colore verde che c'è anche sulle zone alpine, cioè temperature sul filo dei 10 gradi. Però vi faccio vedere molto velocemente una carta che ci dà la tendenza delle temperature minime per domattina. Il blu sono diminuzioni, diminuzioni al centro, soprattutto sul versante adriatico, diminuzioni anche marcate al sud, ma partiamo da valori elevati, non è che arrivi il freddo, questo per avere un'idea. Ci stiamo assestando sui valori stagionali. Al nord le variazioni sono pressoché nulle. Chiudo con lo stato dei mari. Ancora mossi, perché c'è ancora vento, poi magari riusciremo a capire, perché il tempo è diventato buono e c'è ancora vento. C'è un motivo molto preciso. Comunque c'è qualche zona di celeste, cioè mare ormai fermo o quasi calmo, poco mosso, però ancora queste zone in blu, specie al centro e al sud, sui mari meridionali, poi a largo di Corsica e Sardegna, ma insomma anche questo nei prossimi giorni sicuramente si calmerà. Se volete ci vediamo intorno alle 7.55, adesso pubblicità, poi la prima edizione del nostro telegiornale con Emanuele Agarulli. A più tardi.